Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video del vostro XBreeze ed oggi siamo qui a parlarvi di Live Points se vi ricordate bene, una settimanella fa ho fatto un video riguardante questo sito web un sito che vi permette di fare sondaggi, ricevere punti da convertire poi in buoni Amazon, Paypal, eccetera, eccetera, eccetera come tutti, comunque, questi siti, queste applicazioni che io sponsorizzo, pubblicizzo cioè, così sembra brutto da dire per chi non ricevo soldi da loro tramite la pubblicità però, vabbè, quando io porto queste applicazioni, questi siti su questo canale YouTube io ci metto la mia bella faccia ovviamente non possono essere truffa o qualunque altra cosa perché io, uno, perderei di credibilità due, che ci guadagno a farvi perdere tempo su app o siti e alla fine non ricevete neanche niente quindi, voi dovete fidarvi di me perché ormai ho portato tre applicazioni di cui due mi hanno già pagato e la terza deve ancora arrivare alla soglia di pagamento sul mio canale YouTube, insieme ai video di tennis, del calcio, dei gameplay ci sono anche questi video che ora li metterò tutti in playlist una playlist chiamata come guadagnare online nel 2020 così avete tutta la scaletta di tutte le cose questa è la prova di pagamento di Live Points allora, io quest'ordine, cioè il prelievo, l'ho effettuato il 19 novembre e ieri, 24 novembre, mi è arrivato su Payball potete vedere tipo qua lo metterò qua o qua tipo la transazione di Payball ho ricevuto i miei 5 euro che equivocano a 600 punti adesso siamo su Live Points io dopo il 17 potete vedere ho avuto questi 600 che equivocano a 5 euro su Payball poi però dal 17 al 23 alla fine che non è che ho guadagnato tutte ste cose ragazzi voi dovete mettere in conto questa cosa ok tutti i siti che metto si ti fanno guadagnare perché sono serie, paganti e tutto quanto ma non potete pretendere che ogni giorno vi mettano 45 sondaggi dopo diventerebbe un lavoro a tempo pieno se guadagnate 20-30 euro al giorno ok però io non dico che non si può guadagnare 20-30 euro al giorno con queste app però magari non con una sola ok io attualmente utilizzo tre applicazioni tra quale questa l'applicazione quella su Android per giocare e tutto quanto e Pool Pay e posso dire che super giù quei 30-40 euro al mese a casa fino adesso mi sono portati fino adesso poi se amplierò con altri siti e altre applicazioni non lo so ok ma voi dovete prendere queste cose cioè queste app questi siti come hobby ragazzi perché alla fine se non se per esempio voi una mattina alle 8 di mattina andate su Life Points vedete che ci sono sondaggi io ci rivado dopo il pomeriggio se non li vedo basta ci ha finito cioè ci perdo due minuti di tempo ad aprire Life Points a vedere se ci sono i sondaggi cioè come su Pool Pay io apro Pool Pay l'applicazione alla fine ce l'ho sul telefono molto più facile la aprirò 4-5 volte al giorno un secondo per vedere se mi hanno fatto qualche sondaggio se c'è il sondaggio lo faccio poi 15 minuti mi prendo quelle ricompense che danno e basta l'applicazione è quella dei giochi per il telefono alla fine io sono stato molto fortunato perché sponsorizzano un gioco che io ci gioco veramente tanto e ci giocavo senza comunque avere ricompense che è Dragon City fortunatamente posso giocare a Dragon City come giocavo prima e adesso guadagno anche punti quindi alla fine sono azioni quotidiane che io facevo comunque e se mi possono fruttare qualcosa in più perché no ok quindi dovete stare dovete avere pazienza in queste cose perché è possibile che veramente in una settimana vi danno mille sondaggi come ve ne danno 5 dal vostro xbz lasciate un like commentate iscrivetevi come sempre ragazzi tutti questi siti che sponsorizzo e lo ripeto ancora 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 sono tutti siti reali paganti e seri perché se non la faccia col cazzo ce la mettevo scusate il francesismo sotto vi metterò il link dei video di Life Points quello che ho fatto l'altro giorno dove vi spiego un po' come funziona tutto quanto ho prelevato quindi funziona anche questo sito mi manca solo pulpay da arrivare a 10 dollari sono ancora a 5 dollari mi mancano altri 5 però spero che entro due settimane riuscirò anche lì ad arrivare alla soglia minima di pagamento e niente bella a tutti ragazzi grazie